Jamiro Son sorprende tutti nella sesta tappa del Giro di Turchia 2016. I portacolori della Caja Rural sfodero una gran prestazione lungo l'impegnativa salita verso il Mani mettendo in luce grandi qualità. Deve accontentarsi della seconda piazza un pimpante Pranislav Niemeck, ancora protagonista nella breve corsa tappe turca. Giornata difficile per Peyo Bilbao, staccatosi lungo l'ascesa finale. Il basco deve cedere il primato al compagno di squadra José Gonzalde, sesto al traguardo. Grazie a tutti.